Ciao, sono Duke e bentornati su Minecraft Hardcore. Ho ricostruito la piattaformina che mi serve per andare nel netter dal mio portale per intrappolare quelli che mi seguono come prima dovessero riprovarci dannati zombie maiale. E tra l'altro ho anche notato che c'è stato un piccolo bug prima in cui dell'esperienza mi girava attorno come se fossero elettroni o fossi il nucleo di un atomo e mi è sembrato davvero strano. Era di sicuro un bug perché normalmente l'esperienza ti dovrebbe entrare diciamo e tu dovresti accumularla e non c'è un limite quindi non capisco perché non riuscissi a prendere quelle due unità di esperienza, quelle due sferette che mi giravano attorno. Oggi voglio riparare la mia armatura perché questi due pezzi ne avevo altri due che avevo già cambiato e quindi tanto vale che io li unisca e ottenga così dei pezzi quasi nuovi. Forse questo sarà addirittura nuovo no però manca davvero poco sembra una stupidata ma più l'armatura è danneggiata meno protegge quindi se devo fare qualcosa di pericoloso preferisco davvero davvero ripararla. Qua Iron Helmet potrei anche cercare di ripararlo con un po' di ferro giusto perché ne ha bisogno ma non ho dell'altro ferro? Dov'è che è tutto il mio ferro? Qualcuno nei commenti dello scorso video no di due video fa mi prendeva in giro perché dicevo ma sì tanto sono pieno di ferro posso anche sperperarlo un po' rompendo la glowstone col piccone e ora non ne ho più ah no eccolo qua. Stavo davvero dicendo ma davvero non ne ho più per fortuna ne ho tre unità. Ok con due è completamente riparato. Lo facciamo un elmo costa 5 di ferro per farlo nuovo quindi non so se ci ho guadagnato o ci ho perso probabilmente ci ho perso perché avrei dovuto utilizzare un solo lingotto e poi aspettare magari che si rompesse ancora però dai davvero non facciamo i rabbini per un lingotto. E ora mi serve della carne perché vi sembrerà impossibile ma ho poco cibo perché stare sempre in questa zona qua con la sabbia e arriva al mare non è che girano tanti mob passivi da uccidere per prendere da mangiare. E quindi me ne andrò a cacciare un po' di animali prendere la carne e poi voglio anche uccidere un po' di galline e fare delle frecce qua ho messo la scaletta che mi permetterà di uscire ora vado. Benissimo ora ho un po' di cibo ho ancora un po' di carne di pollo 6 pesci cotti e una patata. Al forno e direi che posso tornare nel nether con un pochino di armi in più mi preparo avevo riparato un po' l'armatura sì quindi possiamo andare spero che si siano calmati però ora devo partire velocemente fuggire ok sono ancora arrabbiati però magari non tutti. O magari quello sta avvenendo verso di me per caso no col cavolo ma perché corrono così tanto com'è possibile che corrano così tanto? Ci sono ancora quelli in trappola ma possono cadere posso farli cadere in trappola? No non cadono per niente ne sto aggrando troppi ne sto aggrando troppi io voglio stare nel nether e questi vogliono solo uccidermi. Via 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 arrivano 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 dai mio dio quanto ci metteva mi hanno già colpito. Eccolo qua un altro piccolo però questo sistema un pochino funziona li porto di qua mi seguono e poi io adesso li uccido muori stai soffrendo muori? No così sembro davvero troppo sadico e mi ha droppato che schifezza solo della carne di zombie che delusione tremenda come fai a droppare uno solo della carne di zombie dopo che ti ho fatto tutto questo lavoro di portarti di qua a farmi inseguire? Oh cavolo sono caduto ma poi avete visto quanto corrono veloci quando vogliono fanno una specie di carica mi sembrano gli zeloti in starcraft 2 non so magari è solo un'impressione mia però mi è sembrato proprio che accelerassero tantissimo Uff forse quello che dovrei fare è prendere un po' di pietra e costruirmi un riparo in modo che loro non possano proprio fare niente per venire da me E così forse riuscirei a... potrebbe funzionare così forse riuscirei a farmi una base lì Che cosa la facciamo? Di diorite che ne ho tanta? Si dai E chissà se sono abbastanza veloci per combattere la corrente d'acqua potrei mettere l'acqua ai miei piedi? Ah no l'acqua evapora nel nether Però... però una volta la si poteva usare per spegnersi prima che evaporasse se non sbaglio L'accendino è inutile Sarebbe bello quando mi inseguono metto giù della TNT poi la faccio iniziare ad esplodere con l'accendino quando loro arrivano lì Eh... si prendono tutta l'esplosione però diciamocelo probabilmente morirei io Ora... allora facciamo così Prima mangiamo perché è la cosa più sicura da fare E ora torno lì e cerco subito di costruire una barriera con la diorite attorno a me Spero davvero di non morire Dai... subito diorite Cavolo... possono... hanno avuto un momento di sfollo Hanno avuto un momento di sfollo Guardate... cosa cavolo sta succedendo? Io gli FPS li vedo regolari Mi muovo regolarmente ma loro si muovono solo quando li guardo Come i fantasmini di Super Mario Cioè il contrario dei fantasmini di Super Mario Ah... questo quasi mi prendeva Ok... Ora dovrei essere abbastanza sicuro Guardate quanti sono Ma quanti siete? Questo qua verrà teletrasportato nel mio mondo Di sicuro Voglio ottenere il cibo al massimo Che situazione assurda Sono tentatissimo Sono tentatissimo Non so perché ma sono tentatissimo No un gas... no Porca vacca Porca... ah Fantastico Ha finito la batteria la macchina fotografica Che cavolo è? Sì ce l'ho fatta Ne ho uccisi un po' Ho tante frecce L'ho preso Ok Mi hanno dato due colpi Mi hanno quasi ucciso Ma l'ho preso Quanti cavolo sono? È l'esercito più grande Che abbia mai visto Devo correre come uno scemo Finché non mi si rigenera un po' la vita Ecco adesso se vado nella lava Sono proprio furbo Qua la mia barriera è andata un po' a ramengo Oh Fuga Troppi rischi nel nether Ho deciso di scendere qui Perché tutto sommato è la cosa più saggia Perché qua posso Farmare un po' di scheletri E avere le frecce Così la smetto di andare in giro A cercare galline Per le penne Poi posso anche cercare i diamanti Che è una cosa che mi serve È assurdo che in questa partita di minecraft Io non abbia ancora trovato diamanti Avrei voluto già averli Non mi dispiacerebbe Già avere un'intera armatura di diamanti Perché davvero in hardcore Mi rendo conto di quanto stia rischiando Soprattutto quando dovrò andare a cercare la fortezza nel nether Mio dio E tra l'altro un'altra cosa che devo fare Appena uscito da questa miniera È fare una casa decente Perché a me non piace quella casa sulla spiaggia Ed è per quello che non la sto migliorando Perché voglio farne una bella Davvero bella In cui poi inserirò circuiti Voglio fare una bella casa in questa partita E quindi non voglio migliorare quella lì Perché voglio tenerle per distruggere i cristalli Quando mai andrò nel land Mi ero anche dimenticato che adesso spawnano piccole Le galline dalle uova Quindi se la uccido adesso probabilmente non mi droppa O si Mi droppa già tutto quanto anche da piccola Non scappare Guardate quante frecce E quanto facilmente È davvero comodo questo spawner Ho fatto bene a non distruggerlo Però dai vado a fare una piccola ricerca Di Di diamanti Non a lungo No non mi ha droppato niente Non a lungo diciamo giusto il tempo di finire tutto questo piccone Ho sentito rumore di tuoni E non capisco perché Ancora? Ma non è strano che si senta il rumore dei tuoni in miniera O è sempre accaduto forse Una volta tenevo il volume di minecraft bassissimo Quindi non lo so Magari si è buggato il suono Subito dell'oro Mi piace trovare l'oro Magari farò proprio un sistema di trasporto con i minecraft Dato che ho tutto questo oro Posso fare un bel po' di powered rail Ho trovato una sorta di galleria Con un fiume E la vedo dei lapislazzuli Vediamo se trovo anche qualche bel diamante Ah anche dell'oro Una zona ricca questa Magari porta fortuna Tu invece non ti voglio trovare Non ti volevo trovare Comunque Uh rumori spaventosi Sento rumori spaventosi Una cosa che vorrei fare È dedicare qualche episodio Alla costruzione di una bella casa Però dovrei prima andare Andare via da quella zona dove sono ora Perché l'ho già un po' esplorata E non mi sembra tanto bella Mi piacerebbe trovare una bella zona nuova Eh... Oppure potrei trovare una montagna E mettermi a far esplodere tutto all'interno della montagna Come mi avevano consigliato sotto un video E fare una casa nella montagna Che potrebbe non essere male Faccio i primi piani nella montagna E poi continuo con una torre molto più in alto Mi piacerebbe fare una cosa così E potrebbe essere anche divertente Far esplodere un po' tutto Faccio ancora un po' di TNT Uccido qualche creeper E mi piacerebbe farlo Vediamo cosa c'è di qua Tra l'altro mi sa che Si starà anche facendo tardi Qua niente C'è solo questo Questa sorgente Non c'è niente di utile C'è una leggenda Secondo la quale Vicino alle zone di lava È più probabile trovar Ah qua c'è un'altra Un'altra zona È più probabile trovare i diamanti Sotto le zone di lava Vicino alle zone di lava Però non è assolutamente vero Una volta che si è nella zona giusta Dove è possibile trovare i diamanti La presenza o meno della lava Non influisce Quindi non Non crediamoci Questa Qua c'è una mia torcia Mi sono collegato per l'ennesima volta A una delle zone che avevo già esplorato Però qua non ci sono torce E c'è uno scheletro Con l'armatura d'oro E deve morire A morte Mi domando Gli scheletri con l'armatura d'oro Se l'hanno visti come davvero Fantastici Dai loro amici scheletri normali Tutti Che sono lì Sono normalissimi Scheletri inutili Nudi E poi arrivano questi Con l'armatura d'oro Boss Comunque ora Continuerò a cercare un pochino Di diamanti E noi ci vediamo nel prossimo episodio Per scoprire se li ho trovati E in caso Consigliatemi Secondo voi cosa dovrei fare Se continuare a stare un po' in questa zona E continuare a cercare in miniera Oppure se cambiare completamente zona Portarmi via tutto E trovare da qualche altra parte Un luogo adatto alla costruzione Della mia mega casa Per oggi è tutto Grazie per essere stati con me Alla prossima Ciao a tutti Grazie per aver guardato il video